Iniziamo col dire che cos'è una learning tower o più comunemente conosciuta come torre d'apprendimento. Non è nient'altro che uno sgabello con delle protezioni che consente ai piccoli di spostarsi nel mondo dei grandi in totale sicurezza, sviluppando le proprie capacità sia motorie che cognitive, sempre però sotto la stretta sorveglianza dei genitori. Per realizzare il progetto ho utilizzato un foglio di betulla di 1,50 x 1,50 x 1,50 x, ottimizzando dimensioni e tagli in modo tale da ricavare quasi tutto il materiale per realizzare due torrette, una da tenere ed una, se volete, da regalare. Il costo totale del materiale è di circa 30€ per le due torrette, quindi stiamo parlando di 15€ a torretta, di conseguenza possiamo dire che il progetto è relativamente economico. Date le dimensioni del progetto, nel file pdf troverete una tabella con delle coordinate dei punti, in modo tale da facilitarvi le operazioni di tracciatura sul pannello. È semplicissimo, basta unire i punti passo passo, tracciare i relativi archi di cerchio ed il gioco è fatto, un po' come si faceva una volta con i giochi che si trovavano, ad esempio, sul Corriere dei Piccoli. Per quelli che hanno una certa età, come me, una quarantina d'anni, sicuramente se lo ricorderanno. È importante partire da un lato già tagliato, già regolare, lo vedremo successivamente, questo lato ci servirà per andare in appoggio sulla guida parallela al banco sega nelle operazioni successive. A questo punto si va di seghetto alternativo, ritagliando la sagoma appena tracciata. Non serve essere precisi, basta tenere un margine di un paio di millimetri oltre la traccia segnata prima a matita. Man mano che si avanza è buona norma bloccare le due parti che si appena divise con il passaggio del seghetto, in modo tale da evitare sostanzialmente due inconvenienti. Eccessive vibrazioni in fase di taglio e strappi o scheggiature derivanti dalla brusca separazione delle due parti quando si è in fase terminale del taglio stesso. Il progetto che mi vedete realizzare oggi è scaricabile sul nostro sito, vi lascio il link sia nei commenti che in descrizione. Link al quale troverete anche un altro progetto simile, ovvero un tavolino e due panchette sempre in stile Montessoriano. A questo punto, in totale sicurezza, è possibile rimuovere i morsetti e separare le due superfici. Come anticipato in precedenza, usando il lato dritto, quello regolare, in appoggio sulla guida parallela, adesso occorre rifinire il lato opposto, quello che era stato precedentemente tagliato in maniera grossolana con il seghetto alternativo. Si procede poi con la regolarizzazione degli altri lati inclinati. Nelle immagini vedete l'utilizzo di una slitta per tagli obliqui. Se proprio non l'avete o volete farne a meno, cercate di essere il più precisi possibili con il seghetto alternativo, rifinendo poi le imperfezioni con carta abrasiva per regolarizzare i bordi. La torre d'apprendimento è anche conosciuta col termine di torre montessoriana, in quanto proveniente dall'omonima scuola, che poggia le proprie fondamenta su un principio molto semplice, ovvero insegnare al bambino a fare il più possibile da solo, in modo tale da diventare, man mano che cresce, sempre più indipendente. Ma per riuscire a svolgere la maggior parte delle attività di un adulto, il bambino ha bisogno di essere all'altezza giusta, nel vero senso della parola. Ecco quindi che questo sgabello un po' particolare ci torna davvero utile. Si procede poi con la rifinitura delle parti curve utilizzando una mola abrasiva. Anche in questo caso è possibile farne a meno sostituendola con carta abrasiva e un po' di pazienza. Una volta terminata la costruzione da prima spalla è necessario farne una copia identica alla precedente, riportandone la sagoma sul pannello, cercando di ottimizzare lo sfruttamento del materiale. Si prosegue ancora una volta con seghetto alternativo, anche in questo caso la precisione non è determinante, basta lasciare i soliti 1-2 mm. In questo caso però, contrariamente alla prima spalla, non è necessario partire da un lato regolare. Infatti la forma finale non sarà, per così dire, modellata al banco sega, come abbiamo visto in precedenza, ma al banco fresa, utilizzando una classica fresa a copiare con cuscinetto. Per unire due parti torna utile l'utilizzo del nastro biadesivo. Per avere invece qualche dritta su come lavorare in totale sicurezza al banco fresa, vi lascio in descrizione il link a qualche video a tema, compreso anche quello di una playlist relativa all'operazione sicurezza che ho avuto l'opportunità e la fortuna di condividere con altri amici e a cui, se non l'avete già fatto, vi invito a dare un'occhiata. Questo che vedete nelle immagini è un dettaglio del sistema di puntamento al banco sega autocostruito. Sono passati ormai due anni da quando l'ho progettato e realizzato e sono davvero molto soddisfatto, soprattutto in termini di precisione. Anche di questo progetto vi lascio riferimenti in descrizione e nelle schede. Terminate le spalle, la preparazione dei traversi risulta altrettanto semplice. L'unico consiglio che mi sento di darvi, forse banale, forse scontato, ma mai inutile, è quello di verificare sempre lo squadro. Infatti, tanto più precisi si riesce ad essere in questa fase, tanto più semplici risulteranno le successive operazioni di assemblaggio. Tracciamo quindi la posizione dei traversi e preforiamo le spalle per viti e tasselli con la seguente precisazione. Il foro in cui verrà alloggiato il tassello eseguiamolo non passante, ovvero eseguiamo un invito di circa 10-12 mm. Vi ricordo che lo spessore del pannello totale è di 15 mm. Il foro verrà completato dopo l'assemblaggio per far sì che il contrasto dato dal traverso eviti l'inconveniente, tra l'altro molto probabile, della scheggiatura del legno in uscita. Per quanto riguarda invece le viti, eseguiamo un foro di 8 mm, pari al diametro del tassello, che verrà utilizzato come tappo coprivite per circa la metà dello spessore del legno. E un foro invece passante di 3 mm per la vite. Con una dima ed un anello a copiare, eseguiamo le scanalature in cui verrà alloggiata la seduta regolabile in altezza su due misure, che poi seduta non è, visto che il bambino rimarrà in piedi. Grazie. Grazie. È molto importante che i traversi siano esattamente tutti della stessa misura. Non è importante la misura in assoluto, non è importante la precisione della misura. Una volta stabilita, una volta fissata la larghezza della torre, l'importante è che poi la misura di tutti gli elementi traversi sia esattamente sempre la stessa. altrimenti avremmo problemi in fase di assemblaggio. La struttura, se avessimo differenze anche di 1-2 mm tra un traverso e un altro, la struttura risulterebbe sicuramente ballerina. Quindi il consiglio che vi do è quello di posizionare la guida parallela, la misura che stabilite, e di eseguire tutti i tagli in serie, senza mai spostare la guida parallela. Per evitare il fenomeno del kickback, un fenomeno molto spiacevole quando si ha a che fare col banco SEGA e rispetto al quale Andrea di WetGhost ha fatto un video molto interessante che vi consiglio di andare a vedere. Fa parte di quella playlist di cui vi parlavo in precedenza, quindi trovate in descrizione tutti i riferimenti. Per evitare appunto questo fenomeno, mi vedete utilizzare una slitta. La stessa operazione potrebbe essere eseguita in totale sicurezza anche alla troncatrice. Poi, come capita spesso in falegnameria, per ottenere un risultato ci sono diverse strade. Ognuno poi usa quella più congeniale anche rispetto al proprio parco macchine. Io le avevo entrambi, troncatrice e slitta, ma appunto come vi dicevo in precedenza, dovendo i traversi avere tutti la stessa misura, ho preferito lavorare sempre con la guida parallela al banco SEGA, senza mai, come vi dicevo in precedenza, ripeto, spostare la guida parallela. Eccoci pronti per il montaggio. A questo punto due consigli. Primo consiglio, cercare di lavorare su una superficie perfettamente piana e regolare. Per questo scopo trovo molto utile il carrello con piano in USB che mi vedete utilizzare nelle immagini. Questo perché l'USB è sempre sinonimo di regolarità superficiale. Secondo consiglio, cercare di assemblare tutto a secco prima di utilizzare viti, colla, tasselli. Quindi aiutarsi con due legni alla base per sostenere le spalle. Successivamente, grazie ai morsetti, eseguire l'assemblaggio a secco. Ciò consente di verificare che tutto sia stato tagliato correttamente. Una volta conclusa questa fase, si passa poi tranquillamente all'utilizzo di viti, colla e tasselle. Quindi si completano i vari prefori. Si completa il preforo eseguito in precedenza nella spalla per l'alloggiamento dei tasselli. Si prosegue anche nei traversi. Così come si prosegue il foro di 3 mm, anche se è eseguito solo nella spalla. Si prosegue anche in questo caso nel traverso, appunto con punta da 3 mm, per evitare di far aprire il legno con l'inserimento delle viti. Il preforo aiuta inoltre a far entrare con la giusta inclinazione la vite. La facilità con cui si riesce a spostare il pannello mobile e la sua stabilità una volta in posizione è garantita dalla particolare forma della scanalatura sulla spalla. Non vi preoccupate, comunque trovate tutte le misure e tutti i dettagli nel progetto pdf che vi linko in descrizione e nei commenti. Per non danneggiare le spalle in fase di troncatura della parte eccedente dei tasselli vi consiglio di far porre uno spessore, basta anche solo 1 mm per evitare appunto che i denti della sega, per via della loro stradatura, semino il legno. Vi ricordo inoltre la possibilità di scaricare il pdf del progetto al link che trovate sia in descrizione che nei commenti e di lasciare un bel like se il video vi è piaciuto. Ciao mamma! Ciao mamma! Ciao!